Il francese José Bovee e la tedesca Ska Keller hanno vinto le primarie dei Verdi, guideranno la campagna elettorale degli ecologisti nelle prossime elezioni europee e saranno candidati alla presidenza della Commissione europea. Solo 22.000 persone tuttavia hanno votato online. Speravo in una partecipazione maggiore, ha commentato Bovee, noto per le sue azioni anti-OGM, perché sarebbe stato straordinario, ma del resto i Verdi sono stati l'unico partito a fare questo esperimento. Sconfitta l'italiana Monica Frassoni, che ha denunciato le difficoltà di fare campagna nei paesi del Sud Europa e voleva portare avanti il progetto Green Italia, il nuovo partito ecologista. Spiega Ska Keller, una delle più giovani deputate del Parlamento europeo. Ho trovato le primarie molto soddisfacenti, ci siamo divertiti, abbiamo lavorato tanto, siamo stati in molti paesi europei, abbiamo svolto 10 dibattiti ufficiali. Queste primarie mi hanno motivato ad incontrare i cittadini che sono verdi, che sono impegnati e vogliono fare queste elezioni europee. I Verdi si danno appuntamento a Bruxelles il 22 febbraio per dare via alla campagna elettorale, ma, spiega il nostro inviato, dovranno riflettere sulla scarsa partecipazione a queste primarie. Un segnale allarmante perché molti cittadini europei non conoscono i politici europei e non sanno quanto siano diventati importanti il Parlamento europeo e la Commissione europea. inzwischen spielen. Rudolf Herberts, Ordon News, Brüssel.